Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Io credo che è un argomento che sta molto a cuore degli italiani. Il problema che investe loro stessi, i cittadini, i luoghi e specialmente alcuni ambiti territoriali. Quindi credo che sia corretto che la politica possa esprimersi riguardo questioni che riguardano anche giudizi su sentenze. Poi ognuno ha la propria sensibilità. Sta in campagna elettorale la sinistra, sta in campagna elettorale il centro-destra, sta in campagna elettorale Salvini e vengono utilizzati in maniera democratica gli strumenti della comunicazione. Quindi sollevare adesso un giudizio riguardo a chi ha girato o a chi non l'ha girato. Ma lei se lo chiede, Barelli, io sto riguardando le immagini, è chiaramente una persona che sta insieme alle forze dell'Ori, perché sta da questa parte. Lei se lo chiede da dove arriva sto filmato? Qualcuno ce lo dirà. Chi l'ha girato, chi gliel'ha dato a Salvini? Ma io me lo posso pure chiedere. E non le sembra necessaria una risposta perché tutti possiamo stare più tranquilli e dire... Scusi, la risposta qualcuno la darà. A me interessa anche sapere se è opportuno, mi sembra che è stato detto che non è sicuramente opportuno, ma c'è anche questo di tema. Sì, va bene, però se fosse opportuno o no che il magistrato stesse lì, non è che cambia la natura di quelle immagini o l'origine di quelle immagini. Scusi, se quelle immagini sono immagini a disposizione di qualcuno e non di tutti e a disposizione al fine di essere utilizzate come clave, lei capisce che lo vogliamo sapere. Qualcuno lo dirà, però il tema è spostare l'argomento su questo aspetto, che capisco ha la sua rilevanza dal punto di vista anche mediatico, significa non parlare dell'aspetto specifico. Ma di cosa non stiamo parlando? E nel frattempo chiede alla regina se ci sono le immagini da Granata, che voglio capire cosa sta succedendo lì, perché la povera Giorgia Meloni sta là, è il vertice, 27 paesi... E tu si è parlato di Salvini, per i che succede? Il, dico, non avrà più l'apparato della bestia, ma la politica la sa fare, quindi ha oscurato la Meloni completamente. No, voglio dire, anche nella cultura liberale di Forza Italia, io mi metto nei panni di Forza Italia che ha una radice garantista e liberale, se io fossi di Forza Italia salterei per aria di fronte a quel video, posto che lo stiamo dicendo...